ciao ragazzi benvenuti o bentornati su amore imperfetto questo video oggi per rispondere a una domanda che mi è stata fatta da una ragazza che mi ha contattato e mi ha raccontato la sua situazione un pochino particolare ma prima se ti interessano questi argomenti e anche per evitare di prendere delle fregature iscriviti al canale attiva la campanella così puoi ricevere le notifiche dei super video attenzione perché potrebbero farti bene allora questa ragazza mi scrive parlandomi di una relazione che ha cominciato quasi un anno fa con un ragazzo ci tengo a dire che lei ha sottolineato più volte di avere un lavoro molto importante quindi di essere molto realizzata e soddisfatta nella sua carriera questo potrebbe essere anche un problema per questa relazione perché invece quest'uomo con cui lei ha a che fare ha una posizione diciamo diversa un po lavora un po non lavora quindi lei mi ha anche raccontato che spesso e volentieri si è trovata ad essere diciamo generosa nei suoi confronti e lo ha fatto mi diceva con intenzionalità non perché lui chiedesse qualcosa ma ristoranti qualche volta viaggi cose eccetera il problema qual è il problema è che questa persona questo uomo non ha mai dato chiari segnali di volersi impegnare nel senso che è abbastanza incostante su questo e lei mi ha scritto l'email dove ha descritto un caso successo poco tempo fa in realtà poco prima dell'estate una litigata tra di loro che già ogni tanto discutevano per l'incostanza di lui e lui in una litigata siccome lei forzava un po la mano per capire che cosa lui avesse fatto dove fosse andato evidentemente in uno dei periodi dove lui era sparito e lui ha confessato di essere andato con un'altra persona quindi di avere avuto una relazione intima con un'altra persona tra l'altro lei mi scrive io sono molto ferita perché il modo in cui lui lo ha detto ha detto delle parole dove descriveva in maniera molto precisa di essere di essersi trovato anche molto bene con quest'altra donna di essere stato soddisfatto da questo incontro e quindi come per fare un paragone diceva lei quindi lei non era tanto ed è questo che un po mi ha lasciato perplessa per tutto quello che c'era prima ma la cosa che più le ha bruciato è stato il confronto con un'altra figura femminile e il fatto che lui gliel'abbia sbattuta in faccia in questo modo ok allora ragazzi io sicuramente diciamo che purtroppo facendo una valutazione in toto di quella che era la situazione io vi spiego delle cose non sto dando ragione a nessuno però se noi guardiamo dall'esterno e poi lei mi ha scritto una mail molto lunga dove mi ha spiegato diverse altre cose insomma sicuramente il carattere di questo uomo non è l'ideale di quello che uno può scegliere e mettersi di fianco se vuole una relazione seria ok direi che dopo un anno abbiamo già avuto tempo necessario per valutare l'altra persona non sono due mesi non sono tre mesi non sono sei mesi dopo un anno tenete presente che se una relazione è iniziata e rimane stabile su certi dati soprattutto al negativo come la discontinuità o il non sapere esattamente che cosa vuole da lì in poi può solo peggiorare però purtroppo voi vi attaccate sempre di più poi quando succederanno cose peggiori perché è evidente che se una persona si comporta così poi te ne farà delle altre il problema è che tu è come se non vedessi più quelle di prima mi spiego meglio l'incostanza che questo uomo ha dimostrato e ha tratti anche un po' l'approfittarsi di questa donna erano già secondo me molto gravi quindi mi sta bene partendo dalla differenza della tipologia del lavoro ok mi può star bene che una persona guadagni 100 e un'altra guadagni 20 è un po' rischioso se 100 è la donna e 20 è l'uomo perché comunque per mille motivi che sono anche di tipo come dire per l'educazione che noi abbiamo ricevuto per le influenze di una società che comunque qui è più patriarcale l'uomo tende sempre un po' a subirla questa cosa però ammettiamo che si incontrino due persone molto evolute in questo o che comunque per loro quello non sia un problema qui però un conto è dire io sono una posizione più alta della tua ma un conto è dire tu vivi sulle mie spalle perché non si tratta di pagare una cena e comprare un regalo pagare una vacanza e questo siamo sempre lì ragazzi se a voi sta bene quel format di relazione di vedersi ogni tanto e tu nel contesto del vedersi ogni tanto vuoi anche essere generoso ok però è ovvio che a volte si dà qualcosa perché si vuole ricevere qualcosa in cambio quindi se una persona ha già deciso che non vuole qualcosa di serio noi non la possiamo comprare perché se no passiamo dal vecchio format dove le donne tramite il sesso perché questa purtroppo ragazzi è storia quante volte le donne dando sesso sperano di ricevere amore mentre invece ormai tutti i coach bravissimi ce lo insegnano che l'ultima cosa dove l'uomo va ad innamorarsi è l'ambito sessuale continuerà sempre ad approfittarsi a prendere quello che deve prendere per l'amore del genere approfittarsi nel senso approfittare di una situazione per me non ha l'accezione negativa vuol dire prendere se una cosa ti piace punto chiaramente di là c'è uno che voleva un'altra cosa quindi siamo molto sulla linea di confine siamo un po borderline però se prima ci si provava con il sesso non è che se poi facciamo che ci proviamo con le vacanze i ristoranti le cose allora possiamo convincerlo perché poi tra le altre cose sei tu che pensi che sia una cosa importante perché io di là ho una persona che non sta neanche lavorando in maniera regolare quindi è evidente che forse lui non dà neanche valore né al denaro né a un certo tipo di vita lo fa quando qualcuno offre ok quindi non vuol dire che il valore che noi diamo alle nostre cose abbia per gli altri lo stesso valore quindi anzi qua ci mancava solo il nessuno ti ha chiesto niente ma c'eravamo molto vicini allora già questo era tutto molto grave questa cosa che è successa dove lui ha palesato di avere avuto una relazione sessuale con un'altra donna e gliela ha sbattuta così in faccia quasi come per umiliarla guardate in fin dei conti da un certo punto di vista e per una certa chiave di lettura purtroppo lui non è venuto a meno nessun impegno che poi sia stato sicuramente cafone provocatorio magari c'è anche un pelo di comportamento narcisista perché poi volere umiliare una persona così sbatterglielo in faccia è sicuramente anche un modo come per far sentire il potere tanto in mano ce l'ho io io posso trattarti posso produrre sulle tue emozioni un effetto sicuramente lui lo ha fatto intenzionalmente quindi il gioco è anche abbastanza malefico però ripeto alla base secondo me c'erano tutta una serie di condizioni dove la prospettiva non era assolutamente rosea quindi sul che cosa ne pensi io penso che questo qui ha fatto un pochino il furbo ok con il a il portafoglio di un altro b con la storia di un altro ripeto non si erano detti che erano insieme quindi fino a prova contraria ed è qui la meschinità ed è qui l'essere anche macchiavellico se vogliamo perché giustamente davanti ad un litigio la frase in risposta di una persona così qual è ma noi non stavamo mica insieme io lo so che questa cosa è capitata spesso e che questa è una frase abbastanza sentita ma poi per entrambi i sessi perché ce ne sono state tante di queste situazioni allora alla veloce il consiglio è sempre quello ragazzi non fermatevi su cose dove vedete che non c'è futuro perché questa ragazza continua ad esserci ancora abbastanza sotto io consiglio anche una bella psicoterapia perché si deve proprio uscire da questo loop di attaccamento estremo perché in una realtà parallela ragazzi se una persona viene da voi e vi dice che un uomo o una donna si sono comportati in questo modo ma voi che cosa le direste io invito sempre a fare questo esercizio che per sciocco che sia mettersi in terza persona poi è vero è a volte non vogliamo vedere le cose perché ci siamo troppo dentro come fossimo sottodose e allora a quel punto se non ne usciamo psicologo subito realmente da fuori voi che cosa rispondereste a dai che bello viva viva la compagnia siete una grande famiglia no e lasciate stare tutte quelle cose di orgoglio lo blocco adesso faccio vedere che esco con un'altra persona quelle cose lì mi vanno benissimo fanno parte un po della seduzione di questo gioco ma si fanno quando voi avete comunque ancora controllo della situazione e quando magari siete all'inizio per creare quel po di mistero che va benissimo ci sta ma quando voi già siete sotto un treno e provate ad attaccarvi a un filo di cotone per uscire da sotto il treno no ragazzi cioè è troppo tardi a quel punto per usare tecniche per fare dei no contact strani per provare se torna se non torna tirare fuori degli antagonisti adesso esco con un altro poi lui torna ma chiaramente una persona te l'ha già messo lui te l'ha già messa lui l'antagonista vuol dire che è un gioco che lui fa per colpire gli altri quindi ok glielo fai e magari centri anche lo fai arrabbiare perché se ha messo l'antagonista lui è probabile che sia sensibile anche lui gli antagonisti ma che cosa tiriamo fuori da questo gioco malefico alla fine niente quindi ragazzi il backup si fa dopo quattro mesi e mezzo sei che esci con una persona se la relazione è andata in crescendo in migliorando c'è lo stesso livello di impegno ci sono intenzioni simili ma senza fare un comunicato scritto cioè se tu sei in empatia e in armonia con quella persona probabilmente non ti verrà nemmeno il dubbio di chiederle qualcosa tutti questi altri giochi tutti queste altre cose ragazze vi prego evitate perché dopo ci vogliono due tre anni di psicologo magari due o tre no ma uno sicuramente mi raccomando se avete delle domande potete scrivermi all'indirizzo che c'è in descrizione iscrivetevi al canale vi chiedo una gentilezza soprattutto chi è già follower mi scrivete per favore nei commenti con una sola parola e non voglio niente perché poi magari solo la timidezza eccetera vorrei capire qual è un argomento che vi interessa perché io putto a random ho la casella di posta ma mi scrivete con una parola un argomento che voi volete io approfondisca in un prossimo video se vi iscrivete al canale attenti perché le direttive potrebbero essere corrette un bacio amatevi dal profondo all'inizio Grazie a tutti.